Tutti due all'era no? Sì. Cioè ma l'estate è incredibile. E quindi devi vedere quando arrivano che fanno le domande a lui per la tecnica le cose. Sì sì sono imbasati. No ma poi la cosa che mi ha sentito di più, sai poi l'estate loro si faticano perché le pesche, la raccolta e tutto. Facciamo pallacoppie? Cioè sono chiesi ginocchieri nel mezzo all'aia a fare pallacoppie. Non è vero. Ma carichissime. Carichissime? Cioè scesi con le ginocchieri a fare pallacoppie. Giocate? Io con la pancia vedo mamma aspetta un attimino che ancora magari... Sì ma vatti anni hanno? Eh i suoi sono giovani. Eh sì vabbè però sono cinquantia dai suoi. Pallacoppie bellissimi. Sì ma hanno fatto anche il torneo. Dove ho giocato anch'io. Dove ho giocato anche Davide. Un torneo di San Barno ma è super riconosciuto. Non è? Un torneo bellissimo. Un torneo sull'erba. Dove... Un cimitero. Dove il campo confina con un cimitero. Quindi se la palla va di là non c'è nessuno che te la ripunga. Però a volte torna lo stesso. No.